Non mi sorprende che tu sia stato mandato dall'alto. Non mandato. Io servo i miei scopi. Goditi la tua libertà. Io affronterò il mio fatto. Perché non mi concedi un momento per sveltire i tuoi viaggi? Mi hai già promesso più rapidità se ti avessi aiutato, ma non ho fatto molta strada. Serve più tempo. Oh, hai distrutto uno dei serpenti di Nidhogg, non il nido intero. Non ho tempo per annientare un'intera setta. Non mi aspetto che tu distrugga tutte le mani di Nidhogg. Mi serve solo qualcosa dalle mani di una mercante. Una mercante? Immagino che uno schiavo non abbia denaro per fare acquisti. Ho risparmiato per essere libero e ti cedo tutto. Mi servono solo tre piccole pietre che otterrai senza spendere. E perché avresti bisogno di me? Perché non fai da solo? Lei non serve gli schiavi, neanche se liberi. Ma ho visto il mio vecchio padrone andare al negozio. È vicino alla torre. L'entrata è nei dintorni della torre. Ti basterà avere buon occhio? E io ce l'ho. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.